Ciao a tutti amici youtubers, oggi sono qui per fare il video illustrativo su una patch di Dreamboard. Questa patch si chiama iWindows Phone. Bene, come sempre questo video è esclusivamente a scopo illustrativo e non voglio incidare alcun tipo di hackeraggio. Bene, andando sul nostro solito Asidia, dovremmo scrivere in alto, un secondo che si carica, io qui l'ho già scritto ma comunque ve lo faccio rivedere, iW Phone. Sarebbe iWindows Phone. Allora, di iWindows Phone ci sono due tipi, c'è l'iWindows Phone per iPhone 5 e iWindows Phone normale. Naturalmente quello in cui c'è scritto iWindows Phone iPhone 5 è fatto per tutti gli iPhone 5 solamente, mentre l'altro è fatto per il resto. Bene, eccolo qui, questo è il Windows Phone, è fatto per tutti gli iPod, gli iPad e iMac. Non so perché, però va bene. È fatto per tutti gli iPod, gli iPad e gli iPhone che non sono iPhone 5, mentre per iPhone 5 c'è sempre iPhone 5. Naturalmente iWindows Phone è un tweak a pagamento sia per iPhone 5 che non, ma comunque la rap per carlo, sia per iPhone 5 che quello normale, è quella di Insaneli e la rap è questa. Bene, installata la rap si potrà benissimo installare il programma e il risultato naturalmente sarà lo stesso. Bene, bisogna andare su Dreamboard e su iWindows Phone. Già vi avverto che la prima volta su iWindows Phone potrebbe essere piuttosto lento a partire, per esempio sul mio iPhone ho impiegato circa un minuto e mezzo o due a farlo partire normalmente. Quando c'è scritto, tipo in questo momento, preparing time bisogna lasciarlo perdere, poi comunque dovrebbe essere già più veloce. Bene, ed ecco qui il nostro iWindows Phone. Allora, come vedete la schermata principale è normalissima ed è quella di iWindows Phone. Dovrebbe comparire a tutti quanti come compare a me, cioè la prima cosa è l'orario, poi ci sta qui Facebook, poi telefono, email, messaggi, Twitter. Queste sono le immagini, setting sono le impostazioni, Safari è il browser. Dove ci sono le casse della Bing c'è la musica, poi mappe, Paypal, Apple Store, calcolatrice, Tor, chat, note, YouTube, Skype, Sidi eccetera eccetera. Naturalmente se clicchiamo su Skype non si apre perché Skype non ce l'abbiamo. Però comunque se qualcuno si scarica Skype si aprirà. Bene, poi questa è la schermata principale. Per arrivare a tutte le vostre applicazioni bisogna slittare verso destra e avrete tutte le applicazioni del vostro telefono messe in ordine di nome. Poi cliccando sulla freccetta oppure facendo sempre slittando potremo cambiare pagine, ci saranno solo queste due. Poi se bloccheremo il nostro iPhone, bene, vedete, comparirà sempre la schermata di blocco del nostro dispositivo Apple. Successivamente cliccando su queste rotelline vi si apriranno delle impostazioni. Ebbene, allora, il setting è l'orario, la prima, vedete, questa qui c'è l'orario. L'orario è praticamente dove deve arrivare, se deve scrivere 12, AM o così via. Bit SMS è per chi ha Bit SMS. Poi qui, queste dietro, sono le scritte del vostro dispositivo. Cioè, se adesso noi andiamo a vedere, no, non avremo l'applicazione. Se andiamo a vedere, le scritte sono bianche. Bene, se invece vogliamo nere, diciamo ok, e le scritte diventeranno nere. È solamente questo. Poi Edit Mode significa modificare il nostro iPhone come supportato. Poi questo sarebbe un wedge, ma comunque non funziona. Poi Camera Roll e Netflix sono praticamente i due modi in cui possiamo vedere prima le immagini di fotocamera e l'immagine di musica. Se vedere, per esempio, l'immagine di fotocamera, se vedere quelle immagini che aveva di suo predefinito, oppure se vedere le immagini interne del nostro iPhone che slittano. Slittando per di qua, potremo scegliere il colore dello sfondo del nostro dispositivo. Supponiamo di mettere arancione, premendo ok, e voilà, eccolo che è arancione. Naturalmente io lascio blu perché blu mi piaceva. Bene. Poi di qua vedremo le figure di background e poi abbiamo finito. Bene, come vedete qui è nera, impostandone un'altra. Eccola qui sotto, vedete? Ci sono queste stelle. Perfetto. Avete impostato la vostra immagine di background. Naturalmente ci sono solamente quelle predefinite, ma ce ne potrebbero essere di altri tipi. Io rimetto nero perché nero non era niente male. Perfetto. Come sempre il centro notifiche funziona. Per tornare indietro abbiamo due metodi. O scendiamo tra le applicazioni e clicchiamo qui su Dreamboard, oppure facciamo opzioni. Naturalmente torniamo alla pagina principale, Dreamboard. Come vedete, cliccando su default e voilà, torneremo con il nostro iPhone finalmente funzionante, con gli OS 6 naturalmente. Bene, spero che questo video vi sia piaciuto e di essere stato chiaro. Ciao a tutti da SuperYouTube17.